Ciao sono Fabiana, volevo solo sapere perché avete dedicato la copertina alla battaglia di Reggio Emilia. Un significato su diversi piani, ne cito alcuni, un atto di memoria, ossia sfruttare l'incontrolità importante di mettere un'immagine di copertina per ricordare qualcosa che fa parte della nostra storia, quindi qualcosa di storico, qualcosa di storico non generalizzato ma locale, quindi riporta qualcosa che fa parte della nostra storia locale e quindi della nostra origine. Potevamo utilizzare la copertina in tanti modi, in passato abbiamo fatto con i segni, con le foto, questa volta ci sentivamo di fare qualcosa che avesse anche un significato sociale, io non parlerei di impegno politico, tanto c'è anche questo, ma adesso cosa fate? Musica politica, vogliamo fare la musica di Reggio Emilia Rò che è una musica più sui sentimenti intimi, amore, 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 di bene, male, molto spesso male, per fare qualcosa di bene, non si fa attenzione. abbiamo utilizzato questo spazio per mettere qualcosa che ci rappresentasse, quindi niente di meglio che questo evenimento del luglio del 1260 dove ho perso la vita 5 persone, noti alla storia del mondo di Reggio Emilia, credo che è un evenimento importante per la democrazia e come siamo adesso, noi nel nostro piccolo l'abbiamo fatto, lo vediamo, se qualcuno si chiede perché.